Limitare i disagi di studenti e lavoratori pendolari che dall'Alto Bastese devono raggiungere Agnone, le soluzioni devono essere immediate. Intanto sulla questione viabilità e scontro tra la maggioranza e il Movimento 5 Stelle. Sono allo studio delle amministrazioni di Molise ed Abruzzo gli interventi urgenti per il superamento dei disagi dovuti alla chiusura del viadotto Longo sul Torrente Sente. Sono evidenti le difficoltà esistenti tra le due realtà con particolare riferimento ai trasporti scolastici dall'area di Castiglione, Messer Marino ed Agnone e al raggiungimento dell'ospedale Caracciolo da parte delle comunità chietine. Le maggiori criticità individuate dagli amministratori locali sono le condizioni in cui versa la strada provinciale 86 inagibile agli autobus e ai mezzi pesanti. Il problema verrà risolto provvisoriamente da parte delle autolinee Ecerella per il trasporto degli studenti dall'Alto Bastese alle scuole di Agnone, con l'impiego di minibus che per peso e lunghezza sono più idonei nell'attraversamento della vecchia provinciale 86. Infine la Regione Molise metterà a disposizione le somme necessarie per la messa in sicurezza della provinciale del viadotto Verrino e nella progettazione delle opere di manutenzione del viadotto Sente.